Provo a sintetizzare, diciamo, quello che noi chiamiamo l'ecosistema digitale dal punto di vista pool. Quindi che cos'è, quali sono le azioni che un'azienda può mettere in pista se l'obiettivo è generare dei contatti attraverso una fase di attrazione del contatto. Tutti noi, tutte le aziende oggi hanno un sito, l'obiettivo del sito è quello di essere trovato attraverso Google, il canale di ricerca prevalente, e quindi l'obiettivo del sito è, in gergo, indicizzare dei contenuti che sono al suo interno. Cosicché quando io, utente, esprimo una mia necessità, quindi cerco qualcosa di specifico, devo implementare un nuovo processo di lavorazione, piuttosto che devo entrare in nuovi mercati, inizio a fare delle ricerche su Google, ecco che il mio contenuto viene indicizzato da Google e io entro all'interno, diciamo, dei mondi dell'azienda attraverso una ricerca che si chiama, appunto, organica. Parimenti, tutti noi oggi usiamo, tutte le aziende usano i canali social per raccontare loro stesse, quindi fare attività di comunicazione, e per generare contatti in target, quindi fare attività di marketing, ancora una volta, siano social LinkedIn, piuttosto che Meta, piuttosto che Pinterest, piuttosto che tutti i social che oggi, come dicevo prima, ne nascono uno ogni giorno, uno nuovo ogni giorno, però ancora una volta, l'obiettivo qual è? Incontrare persone che hanno quel tipo di esigenza e portarle all'interno di un mondo che appartiene all'azienda, che classicamente è il sito. Stessa cosa sulle attività sponsorizzate, quindi io sto mettendo in evidenza, sempre sui canali digitali, quindi su Google, piuttosto che sui social, dei messaggi che sono push, che sono sponsorizzati, proprio per intercettare quel tipo di interlocutore e portarlo al sito, piuttosto che l'attività di mailing, piuttosto che facciamo una fiera, incontriamo persone in fiera, ma ancora una volta l'obiettivo è sapere chi sono queste persone. Per poter sapere chi sono queste persone, le devo profilare. La profilazione deve essere condivisa all'interno dell'azienda perché dalla profilazione individerò le persone che sono interessanti, le persone che non sono interessanti, quindi in questo momento non ho un follow up, dalle persone che sono interessanti ma in questo momento non sono pronte e quindi però potrebbero essere pronte nel futuro. Allora, il fatto di profilare all'interno del sito che sia un form, che sia una landing page di contatto, quindi ci sono poi mille strumenti all'interno del sito che mi permettono di tracciare questo tipo di conversione, l'obiettivo qual è? È costruire un racconto che mandi dei segnali alle persone attraverso delle email, attraverso i social, attraverso qualunque tipo di canale di contatto, attraverso Whatsapp, anche attraverso degli SMS, che però mandano dei segnali alle persone dicendo ok, io so qual è il tuo bisogno perché so che profilo hai, so che azienda lavori e io risolvo le esigenze di quell'azienda e da lì registrare il ritorno della persona. Se si ingaggia, quindi dice a un certo punto, sì voglio parlare con voi, a quel punto si passa alle vendite. Le vendite gestiranno la loro parte di negoziazione, una volta che la persona diventa cliente, verrà passata al customer service. Il marketing unisce tutti questi puntini, unisce il mondo dell'attività di lead generation, quindi generazione delle opportunità, all'attività di gestione commerciale, come dicevo prima, come diceva Alberto prima, se il ciclo di negoziazione dura sei mesi, non possiamo palesarci soltanto quando il cliente è il cliente che ci dà un feedback. Il marketing deve costantemente rimarcare l'affidabilità e l'opportunità che ha l'azienda, fino a quando diventa cliente, quindi è il customer service che gestisce la relazione. Queste attività dovrebbero essere, diciamo, codificate all'interno di un unico ambiente, registrate, misurate, per poterci dare delle statistiche che ci permettono di guidare l'ecosistema, quindi il processo che noi abbiamo costruito. In questo caso è puramente pull, siamo noi che attraiamo contatti in target. Ci sono anche, appunto siamo qui oggi con Gianfranco, ce ne parlerà tra un minuto, abbiamo anche la possibilità di accelerare questo tipo di azioni attraverso attività che noi chiamiamo push. L'attività push, classicamente, sono l'acquisizione, io non sviluppo nuovi contatti attraverso i canali digitali con attività di attrazione, ma vado alla ricerca di liste specifiche di aziende che per me sono in target, quindi che hanno caratteristiche di fatturato, di tipologia di lavorazione, quindi di attività che fanno di mercato e di esigenze specifiche che io posso soddisfare, che vanno a creare una lista di aziende in target. All'interno di questa lista io trovo quelli attraverso il content management, il mio obiettivo è profilare, quindi individuare la persona che dentro l'azienda può essere un mio decisore, può essere la persona che per me è in target, e quindi profilarla. E in quel momento lì cercare di prendere un appuntamento, quindi cercare di accorciare la relazione, accorciare la nostra capacità di generare un'opportunità. Lo posso fare su aziende che non conosco, ma come dicevo prima, lo posso fare anche su database di contatti che le aziende hanno sviluppato nel tempo, ma magari non l'hanno mai gestito in maniera diretta, oppure su clienti o ex clienti che o acquistano solo una parte del nostro portfolio di servizi e prodotti, oppure che possono acquistare degli altri appunto perché possiamo erogare servizi che sono complementari a quello che loro stanno utilizzando. Posso fare anche delle attività dirette per, noi chiamiamo di customer satisfaction, quindi cerco il feedback del cliente per sviluppare nuovi prodotti e servizi che possono essere interessanti per i clienti che stiamo ingaggiando, perché magari loro hanno esigenze che noi non abbiamo intercettato in primis, ma che possiamo soddisfare per analogie o sviluppando un prodotto nuovo. Quindi sono altre tecniche che mi permettono di generare dei contatti. Pro e contro di questi due mondi, quindi mondo pool che abbiamo visto prima, mondo push che abbiamo visto adesso. Dal punto di vista marketing pool, quindi il punto di vista della fase attrattiva dei miei canali, questo mi dà maggiore visibilità del brand nel tempo. Sono canali che una volta che vengono presidiati e mantenuti nel tempo, mi permettono di creare una percezione dell'azienda dalla parte esterna forte, che mi dà continuità nella percezione. Sicuramente mi aiutano nel costruire autorevolezza del brand. Se io riesco a raggiungere molte persone con il mio messaggio e ho un messaggio che è coerente e continuativo nel tempo, l'autorevolezza del brand sicuramente aumenta. E anche la costanza delle performance nel tempo. Cosa intendo? Ad esempio, se io sono stato bravo nel tempo a lavorare sui contenuti del mio sito, questi verranno indicizzati da Google, l'indicizzazione, quindi tutte le attività SEO, lavorano nel medio e lungo periodo, quindi dopo anche anni in cui i contenuti, se sono ancora validi ovviamente, sono sul sito, continueranno a lavorare e quindi generare maggiore visibilità, generare contatti nel tempo. Dall'altra parte, i punti di forza dell'attività push sono sicuramente una maggiore velocità nella generazione dei contatti in target, alla lista di aziende in target, ci arrivo molto velocemente, come ci spiegherà Gianfranco tra poco, riesco a profilare meglio il target perché chiedo le informazioni, riesco a ottenere le informazioni in maniera rapida e soprattutto se il mio interlocutore è una nicchia molto piccola o dal punto di vista della geolocalizzazione o dal punto di vista del tipo di numerosità di clienti, di opportunità che fanno quel tipo di lavorazione, quel tipo di servizio, l'attività push è sicuramente più efficace rispetto a una campagna Google perché riesce a essere più precisa. Dal punto di vista delle criticità dei due mondi, le attività di marketing hanno tempi di acquisizione più lunghi perché si basano sul livello di maturazione che ha la persona, quindi io posso essere lento nel mio processo decisionale, lento nelle mie azioni appunto per poter prendere delle decisioni specifiche e siccome viene lasciato a me l'onere o l'attività di andare avanti, di palesare il mio interesse, io posso metterci il tempo che voglio e quindi possono allungare molto anche il processo decisionale. Maggiore difficoltà nel monitoraggio delle performance, dicevamo, vedevamo prima l'ecosistema digitale, tanti canali, tanti momenti di trasformazione, tanti momenti di ingaggio, devo riuscire a monitorare le QPI, quindi le performance su ogni singolo step di processo, non è un'attività semplice se io non mi doto di strumenti di misurazione che mi permettono di correlare i vari canali. Minore precisione, come dicevo prima, nella generazione di contatti in target quando si tratta di nicchia. Noi abbiamo degli strumenti che ci permettono di segmentare un po' il profilo del nostro target, quindi veicolare la comunicazione di marketing ad alcuni mondi specifici e ovvio che un po' di rumore c'è sempre, mentre l'attività push mi permette di essere preciso in quel momento. I punti di attenzione dell'attività push invece sono la capacità di individuare un contatto e contestualmente fissare un appuntamento a la prima parte, noi riusciamo a governarla, io riesco a definire quale è il mio contatto in target, individuare un'azienda in target. La capacità di convertirlo in opportunità dipende se il mio interlocutore in quel momento è pronto a parlare con me e abbiamo visto che un tasso di redemption medio è tra i 3, 5, 4, 8, dipende un pochino dai vari mondi a cui ci rivolgiamo. È un'attività intermittente, quindi io queste azioni le accendo e le spengo a seconda delle esigenze, è un'attività che dal punto di vista di chi la riceve può essere disturbante, dal punto di vista di chi la eroga può essere difficile, ci vogliono competenze molto specifiche per riuscire a creare questo tipo di ingaggio. Quindi, le attività push sono fondamentalmente un boost, quindi mi permettono di accelerare, veniamo avanti di una slide, grazie, di accelerare le attività di marketing che io sto mettendo in pista. Sono attività specifiche che hanno una durata e che permettono di lavorare, anche ancora una volta, nei vari segmenti, io posso utilizzarle per, come vedete tra un attimo, invitare persone a un evento, quindi per portare le persone verso un evento specifico che non è un appuntamento di vendita, ma è un evento, posso utilizzarle per generare opportunità di vendita, quindi appuntamenti specifici, ma sono contestuali e limitate a obiettivi molto, molto precisi e rientrano all'interno delle attività di marketing che, come vediamo prima, sono funzione delle vendite, quindi hanno l'obiettivo di aiutare le vendite a convertire di più. Facendo la fusione di questi due mondi, quello che abbiamo provato a costruire è ancora una volta un'evoluzione dell'ecosistema digitale, che non è più digitale, ma è on e offline, che unisce due mondi. Il gioco qual è? È se le chiamate a freddo ci disturbano e dall'altra parte sono people intensive, quindi hanno bisogno di specifici competenze, le chiamate, se io ho in contatto una persona che invece è più orientata a parlare con me, il mio tasso di conversione aumenta in maniera esponenziale. E quindi il gioco qual è? È unire il mondo marketing pull al mondo marketing push per accelerare la nostra capacità di parlare velocemente con persone in target che sono interessate a noi e quindi che hanno dimostrato un interesse anche magari debole, un interesse diciamo non preciso e puntuale, ma che si stanno informando sulla fase di consapevolezza rispetto a possibili soluzioni che noi possiamo erogare. E quindi il gioco è utilizzare i canali, come dicevo prima, tutti i canali che l'azienda oggi presidia, che sono idonei per generare dei contatti che possono essere alcuna volta il sito, i social, le attività sponsorizzate, fiere, eventi, webinar, come stiamo facendo in questo momento, per generare dei contatti che si devono profilare, di cui quindi devo sapere nome, cognome, ruolo, mail, telefono, che devo sapere se è in target o no. Provo ad accelerare un pochino la conversione, quindi provo a ingaggiarli direttamente per capire se sono interessati a parlare con un responsabile commerciale, se lo sono, passo direttamente la palla, quindi passo direttamente l'opportunità al commerciale, se non lo sono, ma sono in target, non vuol dire che io non ci parlerò mai più. Significa che in questo momento non sono pronti a parlare con me perché non hanno un'esigenza espressa contingente, quindi in questo momento, ma attraverso l'attività di marketing pool, di cui parlavamo prima, quindi un racconto continuativo, le posso mantenere ingaggiate e se riesco a monitorare questo tipo di ingaggio, quindi misurare il feedback che loro mi danno, a un certo momento loro si ripaleseranno e quindi saranno pronte per parlare con un commerciale e quindi diventeranno un'opportunità. E quindi è il mix dei due mondi che diventa assolutamente efficace. Grazie.